Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, ho ricevuto un altro pacchettone da giochi preziosi e all'interno ho trovato anche questo sacchettino fantastico come potete vedere c'è scritto The Zerquins Emotion That Sparkle e qui non so se riuscite a vederlo proprio bene bene c'è una faccina tutta paellettosa e cangiante il sacchettino come potete vedere è anche pieno di strass e come vi dicevo questa faccina è cangiante quindi se spostiamo queste paellette verso il basso ecco qui vediamo se ce la faccio la faccina diventa argentata e rosa e a vederla così sembra quasi una mucchina ragazzi una faccina di una mucchina super pucciosa con gli occhietti chiusi e se invece spostiamo le nostre paellette verso l'alto la faccina si trasforma quindi diventa in parte rossa gli occhietti qui invece sono aperti e la boccuccia è spalancata cioè ragazze è adorabile questa cosa io non so che cosa c'è all'interno di questo sacchettino quindi lo vado ad aprire lo scopriamo subito insieme ed ecco qui quello che ho trovato all'interno del sacchetto mio dio ragazze ma ditemi se non è la pucciosità quindi questo dovrebbe essere un cagnolino arancione con la faccina tutta paellettosa ma prima di scoprirlo più da vicino andiamo a leggere la letterina che ho trovato all'interno del sacchetto qui ci dice The Sequins iluccica cambia faccia teneri animaletti con una particolare caratteristica speciali paellette reversibili che permettono di cambiare l'espressione del viso con una piccola carezza vedete qui c'è anche l'illustrazione poi c'è scritto emozioni brillanti The Sequins sono un'adorabile famiglia formata da cagnolini, orsetti, coniglietti e unicorni ogni personaggio è unico, ognuno ha la propria personalità, cambia espressione del viso ed ha un colore specifico che ti illuminerà la giornata scopri tutti i personaggi fatti travolgere dalla loro simpatia quindi qui come potete vedere abbiamo ben sei personaggi uno più puccioso dell'altro cioè ragazze guardate che meraviglia abbiamo quindi l'unicornina che è veramente super pucciosa abbiamo blinger che è il nostro cagnolino paellettoso abbiamo ruby che dovrebbe essere tipo un altro cagnolino gemmi il coniglietto spark l'orsacchiotto ed infine scimmi la gattina quindi come potete vedere in questa collezione ci sono sia maschietti che femminucce e questi animaletti sono veramente adorabili poi qua c'è scritto personalizza il tuo Zequin puoi impreziosire il tuo personaggio con le gemme adesive che trovi in regalo cosa aspetti? rendilo unico oh mio dio ma che carina questa cosa quindi questo è un prodotto adatto dai tre anni in su e a mio parere fa anche tanto tanto arredamento perché sono piuttosto grandi questi animaletti e super super sbrilluccicosi quindi guardiamoli insieme da più vicino questo è il nostro blinger è in arancione la plastica è dura qui nel retro della testolina come potete vedere c'è scritto The Zequins indossa un fiocchetto di raso azzurro e il suo pancino e le sue zampine sono in viola ma guardate l'espressione ragazzi che meraviglia qui ha gli occhietti aperti di un bellissimo fucsia e la sua faccina è in parte composta da pilot oro e argento ma adesso quindi proviamo a fargli cambiare espressione e vediamo che succede no vabbè ragazzi guardate ecco adesso praticamente è diventato oro fucsia e schiaccia l'occhiolino mio dio ma che meraviglia ragazzi ditemi se non è veramente l'amore quindi cerchiamo di far girare tutte le paellettine e quindi ecco qui il nostro blinger che schiaccia l'occhiolino non so se riuscite a vederlo bene è molto molto divertente fargli cambiare espressione è molto semplice fatemi poi sapere se lo preferite in questa versione quindi mentre schiaccia l'occhiolino oppure in questa super sorridente con entrambi gli occhioni aperti a me devo dire che mi piace veramente un sacco così quindi ragazzi come vi stavo dicendo qui abbiamo un'etichetta all'interno ritroviamo di nuovo la checklist qua c'è scritto The Zekwins Emotions That Sparkle qua ci dice appunto che la sua faccina è reversibile quindi le pilot si possono girare per far cambiare espressione al nostro The Zekwins e qui all'interno ritroviamo la checklist con tutti e sei personaggi disponibili oh mio dio ragazzi ma guardate che carini anche il coniglietto devo dire che super carino stessa cosa per quanto riguarda questa gattina in rosa e in più troviamo appunto questi fantastici strass da applicare al nostro The Zekwins quindi possiamo divertirci per esempio a impreziosire il suo fiocchetto e abbiamo nove strass in azzurro e rosa e in bianco quindi penso che qualcuno glielo applicherò anche alle orecchiette vediamo un attimo come gli stanno quindi vediamo soprattutto se attaccano bene quindi metto tipo quello azzurro qui oh mio dio che carino ragazzi è ancora più sbrilluccicoso quindi ne metto un altro azzurro sull'altra orecchietta quindi possiamo praticamente divertirci a personalizzarlo e a renderlo ancora più carino e poi magari ne metto un altro bianco tipo qui un altro sull'altro orecchietto e i rimanenti li applico sul fiocchetto sì direi di sì ah mi stavo dimenticando di dirvi che tra le altre cose la testolina è mobile quindi potete far girare la testolina del vostro The Zekwins sia verso destra che verso sinistra e quindi ecco qui il nostro blinger pieno di strass ragazzi io lo trovo veramente super carino a mio parere fa anche arredamento quindi lo potete appoggiare sulla vostra scrivania su una mensola che sicuramente darà un tocco di colore e lucentezza alla vostra cameretta quindi ragazzi spero che i The Zekwins vi piacciono a me molto fatemi sapere qual è il vostro preferito quindi tra blinger, jammy, ruby, shimmy, spark e lumini fatemi anche sapere se per caso ne avete acquistato uno e ovviamente quale avete scelto ora prima di concludere con questo video passiamo al momento dei saluti e teniamo nello sfondo il nostro fantastico e sbrilluccicoso The Zekwins saluto al prossimo video ciao